Voltiamo decisamente pagina, presentato il portale Smart Duke del distretto urbano del commercio di Trani, attraverso il portale sarà possibile ottenere tutte le informazioni pensate per il territorio, i consumatori, i turisti e gli esercenti. Questi ultimi potranno commercializzare sulla piattaforma la propria attività e gestire in autonomia la propria offerta di vendita. Presente anche una sezione dedicata al confronto e alla discussione di progetti condivisi e partecipati. Ne parliamo con il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, sentite. Diventa uno strumento operativo soprattutto attraverso la sua piattaforma. Il messaggio ai commercianti e non solo a tutti gli utenti deve essere chiaro, di fatto devono iscriversi e devono utilizzare questa piattaforma. Sarà importante per commercializzare i propri prodotti, sarà importante anche in termini di confronto e di analisi anche con la pubblica amministrazione e non solo. Sicuramente diventa uno strumento importante soprattutto per la crescita del commercio e quindi è evidente che l'appello a tutti gli utenti ma soprattutto a tutti i commercianti è quello di iscriversi. Iscriversi ed utilizzarlo. Le sezioni come vedrete sono tante dal promo duke al social duke. Il promo per chiaramente promuovere i propri prodotti, il social duke per un confronto, un'analisi praticamente di quelli che sono ma anche una serie di progetti che possono essere di fatto svolti e iniziative che possono essere promosse anche dagli stessi commercianti, sicuramente uno strumento che va utilizzato. Noi abbiamo avuto una fortuna, almeno come città di Trani, il fatto di non subire la vicinanza da questi grandi centri commerciali che purtroppo hanno rovinato un pochettino la classica economia cittadina. Riusciamo a reggere ancora un po' il confronto, è chiaro che quello di trasformare una città in un grande centro commerciale all'aperto è il grande obiettivo che un'amministrazione deve perseguire. Questi strumenti sono quelli che ci aiutano di fatto, visto che una piattaforma di questo tipo è di fatto un luogo, uno strumento proprio per andare incontro a questo progetto molto ambizioso che abbiamo in mente. Sicuramente mi sembra questo assolutamente un ottimo inizio, ma come sempre è necessaria soprattutto la collaborazione di tutti gli esercenti, di tutti gli utenti. Il corso di formazione in questo sarà fondamentale, voi immaginate soprattutto una città come la nostra, una città turistica, di quanto sarà importante formare anche ad esempio attraverso la lingua inglese, quindi con la conoscenza dell'inglese, i vari soggetti che sono abituati a stare al pubblico, ma non solo con la lingua, ma anche attraverso un modo di porsi al cliente e io penso soprattutto al turista. Anche in questo modo si trasforma una città in città turistica, attraverso un'offerta che deve essere sicuramente diversa da quella di una città invece non turistica. Bene, questo è uno strumento che stiamo dando in mano a tutti gli esercenti, che va sfruttato nel migliore dei modi, che sicuramente può trasformare, far crescere in generale un'economia e quindi un'offerta commerciale nella città, ma lasciatemi lo dire, far crescere anche il movimento turistico cittadino. Grazie. 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 Grazie.